Bene, abbiamo visto allora le immagini, passiamo dunque come dicevo ai commenti relativi a questa gara iniziamo naturalmente con quella che era la segna stampa, come sempre attingendo da Intella.it abbiamo parlato di polemiche perché in sala stampa a fine partita Mr. Corda, probabilmente ancora un po' troppo a caldo era andato un po' oltre quelle che sono le sue competenze, criticando o comunque andando a giudicare quello che è l'Intella, quello che ha speso secondo lui l'Intella, ha parlato di spesa 50 volte superiore a quella del Savona ha parlato di risultati che invece non arrivano per l'Intella che dovrebbe avere molti più punti del Savona invece al momento si trova sotto di 4, comunque dichiarazioni assolutamente fuori luogo che non competono sicuramente al tecnico savonese naturalmente il tutto può essere ovviamente visto sotto quello che è il momento negativo del Savona a questo proposito è arrivata anche la replica del Presidente Gozzi che naturalmente non ci sta a ascoltare questo tipo di critiche peraltro gratuite e ingiustificate, sono sorpreso ha scritto Gozzi per quello che ho letto e sentito l'Intella per stile e norme di comportamento non critica e non giudica le situazioni e le prestazioni delle altre squadre l'unica giustificazione delle parole fuori luogo di Corda, continua il Presidente, è che la tensione per la difficilissima situazione del Savona certamente non aiuta ad esprimere giudizi più saggi e ponderati e questo mi pare appunto fotografare benissimo quello che è lo stato d'animo, ripeto, dell'Intella di fronte a certi tipi di dichiarazioni per quanto riguarda invece il commento abbiamo visto l'Intella derby sprecato, il titolo del secolo XIX poi ancora negli spogliatori naturalmente il parere di Mr. Prina, era una partita da chiudere velocemente si fa riferimento a tutte le occasioni avute nel primo tempo, almeno 4 occasioni da rete molto nitide purtroppo non concretizzate dall'Intella in questa fase, poi ci sono naturalmente anche le pagelle diciamo abbastanza generose comunque da una parte e dall'altra e poi a margine anche quello che è il commento di Mr. Corda, dice del rigore non parlo se no mi squalificano, in realtà abbiamo visto questa immagine come il fallo di buglio fosse molto evidente. Invece un'altra inesattezza la troviamo sulla Gazzetta del lunedì che titola a tutta pagina Lazzaro sbaglia l'Intella fa pari, purtroppo Lazzaro in questo caso non c'entra nel senso che il riferimento dell'articolo è alle due occasioni avute in apertura di gara da Daniele Rosso peraltro anche in questo caso più che di sbagli si tratta di grandi interventi da parte del portiere aresti che nei primi minuti effettivamente ha salvato a più riprese il risultato sugli attaccanti chiavaresi e ancora ribadisce appunto il concetto di Mr. Prina nei spiegatoi Mr. Prina bisognava chiuderla subito e si fa riferimento naturalmente Prina non ha mancato anche di fare riferimento a un po' di malasorte che attalagna ancora l'Intella e ha in virtù del quinto legno colpito dai giocatori chiavaresi in queste prime sette partite domenica è stata la volta di Rosso che su calcio di punizione all'inizio proprio della ripresa prima di subire il gol dell'1-1 ha colpito la traversa sulla medesima opportunità un altro calcio punizione dalla parte opposta invece Buglio molto bravo ha centrato il sette alla destra di Paroni una punizione veramente imparabile e imprendibile per l'estremo difensore chiavaresi quindi tutto sommato appunto anche in questo caso abbiamo visto come gli episodi fanno presto a cambiare proprio l'inerzia della partita a margine va anche ricordato l'infortunio Corso Amlili che ha lasciato il campo dopo soltanto 15 minuti di gioco una perita importante nell'economia del gioco dell'Intella perché sappiamo quanto il giovane marocchino sia appunto determinante a livello tattico e a livello del suo dinamismo di quella che è la sua intensità durante la partita nel recuperare palloni e nel smistare appunto il gioco a centro campo dicevamo si è sentito la sua assenza anche se Zampano che è entrato al suo posto spurse in un altro ruolo ha comunque disputato un'ottima gara parliamo di un giocatore che ha soltanto 18 anni tra l'altro appena compiuti quindi è buono anche questo inserimento Amlili invece come dicevamo si è scontrato con i portieri arresti in uscita anche in questo caso interpretazione dell'arbitro abbastanza discutibile ha fischiato fallo contro Amlili che invece è stato travolto appunto dalle portiere ha riportato una brutta contusione arcata sopraccigliare con un grosso ematoma in serata poi è stato visitato dal medico dottor Smeraldi che comunque ha rilevato come non ci siano per fortuna altri tipi di complicazioni se non quella di questo evidente ematoma appunto sull'arcata sopraccigliare del giocatore che quindi dovrebbe recuperare in tempo per domenica prossima questo per quanto riguarda appunto la parte dedicata alla segna stampa e quindi un po' i commenti ricordo invece anche quelli che sono i risultati delle giovanili chiavaresi prima di concludere partendo come sempre dalla Berretti che è andata sabato a cogliere un importante pareggio sul campo dello Spezia sta diventando un po' la bestia nera l'Intella della formazione allenata da Pietro Fusco 1-1 l'Intella è riuscita a recuperare il primo appunto dello scadere grazie a un gol di Mirko Chiarabini ancora invece per quanto riguarda gli allievi i giovanissimi i due campionati nazionali non è stata una domenica felicissima gli allievi di Manuel Montali sono stati sconfitti in casa dal Pavia per 4-2 una partita messa a male nel primo tempo con il 3-0 dei Lombardi poi una buona reazione nella ripresa da parte dei chiavaresi sono arrivati fino al 3-2 hanno sfiorato anche a più riprese il pari ci sono state anche in questo caso qualche contestazione nei confronti dell'arbitro addirittura con espulsioni di Montali che da anni non riceveva appunto un provvedimento simile da parte di un arbitro e poi nel finale con la squadra sbilanciata alla ricerca del pari è arrivato anche il gol del 4-2 che ha chiuso definitivamente la contesa in favore del Pavia mentre i giovanissimi di Giampaolo Castorina sono stati battuti anch'essi di misura sul campo del Cuneo anche in questo caso è passato in vantaggio la squadra chiavarese poi ha subito la rimonta del Cuneo con il 2-1 finale che ha visto anche in questo caso l'espulsione di Giampaolo Castorina per un episodio anche questo discutibile con un giocatore del Cuneo già ammonito l'arbitro stava per ammonito aveva già messo in mano al cartellino poi rendendosi conto della prima munizione ha rimesso in tasca il cartellino sono gesti che non si dovrebbero fare comunque magari farli in maniera un pochino più elegante Castorina ha protestato per questo motivo poi è stato espulso ripeto anche in questo caso c'è il ramarico perché comunque era una partita che poteva essere alla portata dei chiavarese invece anche per un po' di inesperienza è sfuggita con la vittoria del Cuneo per 2-1 passando ai campionati regionali si va ampliando sempre di più il panorama delle squadre che scendono in campo oltre agli allievi di Davide Genovese che hanno vinto nell'incontro appunto di sabato una bella vittoria per due reti a zero da parte della formazione di Genovese che nella ripresa soprattutto è andata a vincere per 2-0 contro il Savona grazie alle reti di Traversaro e di Bottino invece c'è stato il bel pareggio la bella impresa dei giovanissimi di Marcocella i giovanissimi regionali che hanno colto un 2-2 sul campo del Genoa a Cogoleto ancora invece la sconfitta purtroppo per l'Entella B sempre nello stesso campionato dei giovanissimi contro l'Alvagnese 8-0 a favore dei Bianconeri e per finire è sceso in campo anche la prima giornata il campionato dei giovanissimi fascia B leva 99 affidati alla guida di Vincenzo Melidona ebbene la squadra chiavarese ha iniziato nel migliore dei modi andando a vincere in trasferta contro il Don Bosco Spezia una partita quella dei ragazzi di Melidona dominata dall'inizio alla fine anche con esprimendo anche un bellissimo gioco e impreziosita dalla tripletta di Cusato che appunto ha affossato il Granata Spezzini quindi un bel inizio per i ragazzi di Melidona una leva ricordiamo 99 sono i giovanissimi regionali di fascia B è tutto dunque anche con il settore giovanile non mi resta che andare a ripilogare invece quello che sarà il prossimo turno del campionato di Lega Pro che come dicevo l'Entella sarà la vedrà di fronte alla Giacomense in questa che sarà l'ottava giornata del torneo appunto di seconda divisione mentre per quanto riguarda il resto degli incontri da vedere Sant'Arcangelo Montichiari Alessandria Treviso Casale Renate Cuneo San Marino Lecco Borgo Bugiano Mantua Savona Poggi Bonsi San Bonifacese Propatia Valenzana e infine un altro derby emiliano uno dei tanti in questa stagione fra il Rimini e il Bellaria questo il quadro completo ricordo l'incontro di Lentella alle 15 a Comunale contro la Giacomense un incontro naturalmente al quale chiedere come sempre il massimo del risultato la vittoria e una vittoria che può rilanciare assolutamente la squadra di prima in classifica e soprattutto ridare un pochino di quel morale che si era perso dopo lo stop interno contro il Montichiari arrivato appunto la settimana scorsa la squadra ha dimostrato a Savona di essere comunque in salute anche se c'è ancora da lavorare come ha messo lo stesso tecnico e da rivedere alcuni aspetti soprattutto come dicevamo la fase realizzativa però è anche vero che la squadra gioca la squadra crea e quindi sono veramente appunto ancora qualche dettaglio da mettere a posto ma la strada sembra veramente quella buona intrapresa dai ragazzi di Luca Prina è tutto per quest'oggi ringrazio Elio Moller in regia e naturalmente vi do l'appuntamento a martedì prossimo per un altro spaccato per un altro approfondimento sul campionato di seconda divisione Lega Pro grazie a risentirci Grazie a tutti